Si avvicina l'appuntamento con il referendum consultivo sulla possibile fusione dei comuni di Capolona e Subbiano. Qual è la posizione del consigliere comunale Davide Faltone? La mia posizione è questa. In campagna elettorale ero schierato per il no. Il PD di Capolona è schierato apertamente senza sì e senza ma per il sì. Il PD di Subbiano ha preso una posizione un po' più defilata ma di fatto nella grande maggioranza sono schierati per il no. E questo uguale è avvenuto nella destra. La destra di Subbiano è schierata per il no, ha dato vita anche in buona parte ai comitati per il no. A Capolona la destra è per il sì. Quindi evidentemente se nemmeno i partiti più importanti, quindi l'unico partito che rimane, si dice a livello nazionale del PD, si presenta unito. Questa è la prova che non è vero che è un'unica comunità. Questo oltretutto va messo in considerazione al fatto che non è una fusione che è stata proposta dalle due amministrazioni che hanno elaborato un documento anche in relazione alle future regole del funzionamento del comune unico, le sedi dei vari uffici, c'è tutta una serie di aspetti che devono essere regolamentati e nella proposta di legge che viene sottoposta al referendum c'è scritto che dovrebbero essere i due sindaci dopo il referendum. Ma questi due sindaci fino ad oggi non sono mai riusciti a parlarsi. Anzi queste due amministrazioni sono in causa per più questioni. Quindi è evidente che non riusciranno a decidere nulla, anche perché poi dovrebbero essere proprio i due sindaci, nemmeno i consigli, non c'è nemmeno una votazione. E' quindi evidente che tutto lo deciderà la prossima maggioranza. Ma come ho detto c'è il rischio che non sia una maggioranza trasversale fatta da un partito nei due comuni, ma c'è il rischio concreto che all'interno dei due comuni si sviluppino delle liste che rappresentano quel comune, una delle due vinca, e quindi non è più una fusione paritaria ma diventa un'incorporazione perché quello deciderà le prossime regole.